Nonostante l'avvio ostentato del Foggia dopo una promozione in Serie B attesa a 19 anni, la piazza rossonera, da sempre esigente ed affamata di calcio, non ha preso malissimo l'inizio di campionato insufficiente, almeno in termini di punteggio, da parte della formazione di Stroppa. Anzi, è un Foggia che piace ai tifosi e al presidente Fares, che come dichiarato alla Gazzetta dello Sport, è fiducioso ed ottimista per le sorti del proprio club. Una squadra che crea occasioni e gioco, anche se al momento non raccoglie frutti. Il patron ha seguito alla lettera le indicazioni del direttore sportivo di Bari e dell'allenatore Stroppa, che hanno però deciso di lasciare fuori squadra Vincenzo Sarno ad inizio campionato. Nonostante il dispiacere di Fares, però il numero uno della compagine pugliese guarda avanti ed è convinto che la squadra che affronterà l'Avelino Sabato potrà togliersi diverse soddisfazioni. Una filosofia di gioco che si può definire zemaniana, portata avanti negli anni, prima con De Zerbi, poi con lo stesso Stroppa. Il 4-3-3 sembra un marchio di fabbrica, in casa Foggia, e di soddisfazioni ne ha date sicuramente. Gioco offensivo e tante palle gol create nelle prime due partite, molti tiri in porta dal quale l'Avelino dovrà ben guardarsi. Il tridente composto da Mazzeo, che di co-è fedato, potrebbe dar fastidio e non poco ai lunghi centrali di difesa bianco-verdi. Il Foggia dunque ha fatto intravedere cose interessanti e potrebbe decollare a breve per cominciare davvero ad essere una mina vagante.